Sto entrando a Villa Ragno, la Villa Ragno, Villa Ragno, il Ragno, facciamo il Giro, il Giro, Villa Ragno, questo è tutto posto, adesso siamo dalla parte, diciamo, nord, questa è una di serie di garage, questo, diciamo, è il di dietro degli appartamenti, qui facciamo l'allenamento, queste sono le finestre delle due samere d'aveto mie, questo è il cammino, si può anche accendere, che penso tra me, sei Laura, vieni Laura, vieni Laura, vieni Laura, vieni, 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 vieni Laura. E questa è la scala che va di sopra, dove ci sono altri quattro appartamenti.